Buongiorno e bentrovati con Mattino 6, sabato 18 gennaio 2020. La terza ricorrenza della strage dell'hotel Rigopiano, una giornata che TV6 seguirà nel corso dei notiziari perché sarà questo un sabato dedicato alla commemorazione delle 29 vittime della strage del Resort. Una giornata che inizierà in mattinata alle ore 10 con la preghiera davanti al totem del Resort dove ci fu la strage e poi proseguirà con la messa ufficiata nella chiesa madre di Farindola. Poi nel pomeriggio la cerimonia di commemorazione si sposterà al Palasport di Penne dove ci saranno Pino Insegno e Federico Perrotta che intratterranno le persone presenti fino alle ore 16.49 quando sarà appunto ricordato ulteriormente l'ora in cui ci fu appunto la strage. Noi seguiremo con i nostri notiziari questa giornata ma lo faremo anche nel corso di questa nostra rassegna stampa con un collegamento da Farindola già nel corso di questa mattinata. Chiaramente grande spazio sui giornali locali su questa triste ricorrenza, chiaramente sullo sfondo ci sono anche le inchieste con l'udienza fissata per il prossimo 31 di gennaio che dovrà riunificare i due filoni principali. Ma andiamo proprio sulle prime pagine delle testate locali, in particolare sul centro, le quattro edizioni hanno la medesima apertura tutta dedicata appunto alla strage di Rigopiano. Ecco qui proprio in riferimento sì all'anniversario ma anche allo sviluppo dell'inchiesta che il titolo è Rigopiano, giustizia per loro. Tre anni fa la tragedia, questa mattina la cerimonia al resort con i parenti delle 29 vittime, nel pomeriggio una manifestazione con il ministro Bonafede al Palasport di Penne. Poi i volti delle 29 vittime della strage del resort, comunque poi si va avanti nella vita e guardiamo cosa ha fatto Federica, la figlia di una coppia che appunto è morta sotto le macerie di Rigopiano. Ecco qui Federica su quella tragedia ho scritto una tesi di laurea, la storia di chi ha perso i genitori. Federica Di Pietro l'aveva detto subito sono un'orfana di Stato, sintetizzando in quelle poche parole Rigopiano è quello che la tragedia ha portato a galla, il paradigma di un sistema Italia dove niente ha funzionato. Lei che con la sorella Fabrizia, quel maledetto mercoledì di gennaio di tre anni fa, ha perso il padre Piero e la madre Barbara, dopo quella in giurisprudenza si è laureata anche in scienze politiche. Poi la lettera, il grido disperato delle mamme, potevano salvarli. Le mamme delle vittime hanno scritto un'accorata lettera di denuncia tra i vari passaggi, dicono ora si sopravvive ma la nostra non è più vita. Mancano i vostri sorrisi, le chiacchiere con voi, la vostra presenza in famiglia. Pretendiamo giustizia e doveroso verso di voi, angeli nostri, e verso tutti i cittadini affinché non accada più una tragedia simile. Poi andando avanti in taglio medio, sempre sulla prima pagina, incubo suina, paziente in isolamento. Il caso all'ospedale di Pescara si tratta di una 65enne, i medici nessun rischio contagio. Pescara posticipata l'uscita, il comune cambia l'orario, protesta dei dipendenti. Sempre a Pescara l'imprenditore scomparso, chiesa gremita per l'addio a Carlo Di Properzio. E poi ancora altri richiami di cronaca, relazione violenta, botte alla fidanzata, arrestato 17enne, sempre a Pescara rinviata a giudizio, lavoratore vessato, direttrice nei guai. Andiamo in taglio basso, viaggio nel paese assediato dai tir, ogni giorno 5 mila mezzi pesanti, salgono lo smog e la rabbia, sequestri a 14, traffico e caos. E poi calcio mercato, il Pescara su Melchiorri, si tratta con il Perugia. Andiamo avanti, siamo sull'edizione terramana del centro, ovviamente come detto l'apertura è la medesima, tutta dedicata a Rigopiano, alle 29 vittime in questa terza ricorrenza. Allora andiamo in taglio medio, viaggio nella città assediata dai tir, Silvila, giunta intanto prova il progetto di una variante in collina da 25 milioni. Terramo, tensione in comune, la maggioranza si spacca sul possibile allargamento. Val Vibrata è ripreso il taglio dei pini lungo la strada statale 259. Poi ancora altri richiami, aspettando la neve, Prati, gli impianti in funzione da oggi. A Giulianova, cronaca, anziano travolto, accuse meno gravi. Andiamo in taglio basso, Pineto e Roseto, scacco alla banda della droga, tre divieti di dimora, botte clienti che non pagavano. E poi per il calcio di Serie C il Terramo punta sul duo Magnaghi-Bombaggi. Andiamo sull'edizione di Chieti del centro, sempre in taglio medio, cardiochirurgia, inchiesta sulle spese. Chieti, blitz della finanza nel mirino, le forniture di beni e servizi, ci sono i primi indagati. E poi altri richiami, avvasto, droga da Colombia e Albania, due arresti e due denunce. A Guardia Grele gli rubano l'escavatore e lo ritrova su internet. Poi in vista delle prossime elezioni a Chieti, Febbo, primarie con Formichetti. A Tessa, morto al Sevel, al Via Le Perizie. E poi ancora in taglio basso per il calcio di Serie D, Chieti a caccia della vittoria col Porto Sant'Erpidio. Oggi in anticipo di Dio alle 14.30 a Ortona. Edizione dell'Aquila del centro, andiamo subito in taglio medio. Meningite, insegnante gravissima all'Aquila. La Asla rassicura, non esiste il rischio di contagio e non serve la profilassi. E poi ancora sul Mona, dimezzato lo stipendio. Comune, sospeso all'economo che fu arrestato per la droga. Ad Avezzano, entro 90 giorni, pericolo Eternit per la salute. Passerotti ordina la bonifica. All'Aquila, Palazzo Margherita riapre entro l'anno, mentre a Piano Case Camarda sfollati in arrivo. Il trasloco bis per lo sport. In taglio basso, Avezzano sale la febbre da rugby. Ora si sogna la Serie A. Andiamo sulla prima pagina del messaggero Abruzzo, che apre con il caso di Meningite all'Aquila. Meningite, maestra in fin di vita all'Aquila, insegnante a 45 anni, un incarico al circolo didattico Amiternum. La causa probabilmente un'influenza. La Asla, non ci sono pericoli di contagio. Sotto la testata, l'inchiesta truffa delle targhe internazionali coppie ci rimette oltre 4.000 euro. Silvi, sequestri in A14 residenti, tentano il blocco della Statale 16 per lo sport di Serie B. Calciomercato in particolare, il Pescara, il mercato in ruota intorno all'ex Melchiorri. Pettinari va a Crotone, quindi il Delfino ha già contattato i procuratori. Ma Maniera non ci sta, sono qui a difendere a tutti i costi la maglia. E poi ancora, di spalla detenuto, si inchioda allo sgabello per protesta. Alta tensione a Sandonato per violenze, rischi e aggressioni. Pochi agenti in servizio. In taglio medio, la fotonotizia dedicata all'anniversario di Rigopiano. Rigopiano, tre anni ancora senza giustizia, parla Matrone. Ora un po' di serenità. Peraltro, proprio Giampaolo Matrone con la figlia Gaia saranno in campo allo Stadio Olimpico. Quest'oggi, prima della partita tra Lazio e Sampdoria. riceveranno un saluto proprio nel giorno di questa triste ricorrenza, prima della partita di Serie A. E poi ancora, in taglio medio, amo il mio papà ma il Tribunale vuole portarlo via. Tortoreto, drammatico scontro tra genitori. Il giudice e il ragazzino vada con la madre. Ancora un richiamo di cronaca, Manioco sfugge al linciaggio vicino alla scuola, tutto questo a Pescara. E poi a San Salvo, sempre la cronaca in taglio basso, presi i signori della droga. Prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura d'Alterio, direttore generale dell'IZS. Il presidente della regione, Marco Marsiglio, ha emesso il decreto con cui ufficializza la nomina. E poi ancora, la lettera del sindaco di Teramo, D'Alberto Cavallari, apre al dialogo di Timoteo, va all'attacco. Fermento in senno all'amministrazione comunale di Teramo. In taglio medio, la fotonotizia, scacco allo spaccio, due minori in manette nell'operazione dell'arma. Poi una serie di richiami, intanto, quello relativo ai disagi sulla viabilità per il sequestro del viadotto Cerrano sulla A14. Cittadini esasperati minacciano di bloccare la statale. Cittadini di Silvi esasperati. E poi, sempre a Silvi, già pronto il progetto per la nuova variante. Vicenda popolare di Bari. Indagini anche sui crediti inesigibili. A Roseto, presentato in nuovo piano per le spiagge. A Giulianova, revisione in arrivo per l'ex Saddam. Poi vediamo in taglio basso, sempre a Teramo, chiede 100 mila euro per la caduta in centro. E per lo sport, i dubbi della difesa, nella difesa del diavolo, in tre si contendono due maglie. Lasciamo i quotidiani locali. Andiamo ora con la panoramica sulle testate nazionali, partendo dal Corriere della Sera, che apre così. Voto su Salvini, IRA, PD, 5 Stelle. Accuse a Casellati decisiva per evitare il rinvio. Lei non sono di parte. Il caso del processo per la Gregoretti e la Cassazione dà ragione a Carola Rachete. Ingiusto arrestarla. Sotto la testata, le parole del noto conduttore Massimo Giletti. Aiuterò l'azienda di famiglia, l'ho promesso al mio papà. Poi ancora, andando in taglio medio, la fotonotizia. Preghiera anti Stati Uniti di Camenei. Ci pugnaleranno alle spalle. La guida suprema non parlava dal 2012. E poi di spalla, cuneo fiscale, il bonus di 80 euro sale a 100 sulle buste paga per 16 milioni di dipendenti. Andiamo sulla prima pagina di Repubblica, che apre così migranti. Ora l'Europa ha un piano. Intervista al nuovo commissario Schinas. Patto solidale per accoglimenti e rimpatri. Polizia e navi dell'Unione alle frontiere. Caso Gregoretti. Lunedì il voto in giunta, come voleva Salvini. Decisiva Casellati. Idem, la Presidente del Senato, non è imparziale. Poi ancora, Governo, Conte risponde alle sardine. Sono pronto a incontrarvi. Andiamo in taglio medio. Fisco, il bonus a 100 euro. Sgravi per 16 milioni di dipendenti. Meno tasse per i redditi, fino a 40 mila euro. Castelli, adesso assegno per i lavoratori poveri. E poi ancora, in taglio basso, boom di specializzazioni. La chirurgia nelle mani delle donne. Andiamo ora sulla prima pagina del messaggero. No, andiamo sulla prima pagina del fatto quotidiano. Ecco qui l'apertura. Bibiano, sardine sfrattate per dare la piazza a Salvini. Il movimento aveva bruciato il capo leghista sul tempo per il comizio del 23. La questura ora pretende che rinunci e gli ceda il posto. Il questore chiama Santori. Ritiratevi. E poi, vicenda Gregoletti. L'arbitro Casellati fischia, prolega. Assista alla destra per votare lunedì. La storia. Il caso Rubli da Savoini a Irina. Che cosa ha scoperto? La procura. Andiamo sotto la testata. Fronte 5 Stelle. Di Maio vede la Pendino e prepara il nuovo vertice 5 Stelle. le prove di congresso in vista degli stati generali. E poi, il carcere è senza PC. Il boss Graviano non depone su Berlusconi. Tace al processo, dragheta stragista. Proseguiamo sulla prima pagina del manifesto. Che apre così. Carola non si lega. Carola Rachete ha agito per necessità. Non andava arrestata. La Cassazione respinge il ricorso della procura di Agrigento contro la scarcerazione della comandante della Sea-Watch 3. Una pesante sconfitta anche per Salvini. Lunedì il Senato vota sul caso Gregoretti. Sotto la testata. Tasse giù per i redditi fino a 40 mila euro. Taglio del cuneo fiscale. L'annuncio del governo. Al tavolo con i sindacati. Avanti con la prima pagina del tempo. Che parla di verità nascosta. Sull'Ilva il governo ha bleffato. Il conte bis è nato spacciando l'emergenza di 23 miliardi di aumenti da scongiurare. Era falso. Ben 20 miliardi sono stati trovati facendo deficit. Altri tre tagliando quota 100 e flat tax di Salvini. Nel tempo di Oscio la fotonotizia. Lo smog è alle stelle. Le proteste pure è Virginia. Raggi si arrende. Oggi niente blocco. Andiamo sulla prima pagina della stampa. Con l'apertura sulle dichiarazioni del ministro dell'Interno. La Morgese Task Force contro la mafia in Puglia. Sicurezza sì del governo. Alla pistola elettrica per le forze dell'ordine. I dubbi dei sindacati in caso di morte o feriti. Si rischiano sanzioni penali. Conloquio con la ministra dell'Interno dopo le bombe di Foggia. E poi ancora lunedì il voto della Giunta. Casellate aiuta la Lega a effetto Gregoretti sulle elezioni emiliane. E poi ancora in taglio medio la fotonotizia. L'Unione Europea dice no al riconoscimento facciale nei luoghi pubblici. La prima pagina della verità. Ecco l'apertura. La sentenza legittima. La comandante per la Cassazione. Le ONG possono speronare le nostre motovedette. I giudici bocciano il ricorso contro l'ordinanza che aveva rimesso in libertà la racchete. Salvava vite. Non andava arrestata. Una novità che rischia di influenzare l'atteggiamento delle forze dell'ordine. Richiedenti asilo presi per impacchettare pennarelli trattati come schiavi. Un primo piano di Matteo Renzi a centro pagina. L'ex rottamatore ridotto a fare la corte al Bonino. E poi ancora in taglio medio per Benetton e Company. 10 miliardi per le strade 5. L'offerta di autostrade al governo è una confessione involontaria. In questi anni la manutenzione è mancata. Nessuno si deve vendere. La procura apre un fascicolo per le presunte pressioni sui periti del Morandi. E chiudiamo con la prima pagina dell'avvenire. L'apertura tasse. Primi tagli. L'intesa governo sindacati. Riduzione del cuneo per 16 milioni di lavoratori. Il bonus sale a 100 euro. E cresce la platea. Conte. Inizio della riforma fiscale. Il 20 gennaio. Il primo voto su Salvini. Per il caso Gregoretti. Il PD contro Casellati. E di parte. Poi in taglio medio. La fotonotizia con l'Africa che rinasce e cresce. dalle scuole in Uganda. Le aziende che producono scarpe in Etiopia. E poi tensione. Leggiamo in taglio medio. Kamenei minaccia ancora l'America. Il leader iraniano. Trump risponde sui diritti umani. Ci fermiamo qui con la parentesi legata alle testate nazionali. Torniamo su quelle locali e riprendiamo dal messaggero Abruzzo. Siamo su pagina 42. Paralisi in autostrada. La procura tace. Silvi no. Ora basta. Siamo esausti. Il jeep di Avellino non si esprime sull'istanza per ripristinare il transito dei tir sull'A14. e il sindaco Scordella blocca una protesta. Città sotto assedio possibile azione legale. Il governatore Marco Marsilio scrive all'ANAS. Danni sulla SS16. Sollevare il comune degli oneri. Il passaggio di migliaia di camion ha provocato rotture alle tubature. Vediamo il servizio del TG6. Ancora caos e grandi disagi sulla statale adriatica. a causa delle migliaia di tir a cui è interdetto il traffico sull'A14. L'ultima istanza ancora non ci giunge notizia sul viadotto Cerrano, sulla situazione proprio del viadotto. Abbiamo le istanze rigettate per quanto riguarda invece i New Jersey. Sicuramente le notizie che ci giungono con il contagocci non sono positive. Dunque spero che mi smentiscano e spero che a breve si trovi una soluzione al problema. Naturalmente la gente è esasperata e dunque la pazienza inizia a scarseggiare. Soprattutto per il fatto che Silvi è sotto assedio. E infatti il traffico è addirittura aumentato questa settimana? Ma questa settimana purtroppo da lunedì a ieri abbiamo evidenziato con il monitoraggio dei flussi oltre quota 5.000 mezzi pesanti nelle 24 ore. Dunque 5.000 mezzi pesanti al giorno. Sicuramente è un dato allarmante perché è un dato che va a incidere sicuramente anche sulla qualità dell'aria. Ed ecco quali potrebbero essere, a detta del sindaco, le possibili soluzioni. Queste, seppur non definitive, potrebbero alleviare la situazione. Intanto inizio a aggiungere qualche soluzione. Era da tempo che chiedevamo un piano strategico di intervento perché Silvi non poteva sopportare una situazione del genere ancora a lungo. Le prime soluzioni comunque sono pagliativi, però almeno diamo una risposta. Oggi sentivo la federazione degli autotrasportatori che vogliono autointerdire il loro transito dalle 16 alle 20. dunque nell'orario più critico di rientro tra parte dei cittadini a casa. Dunque questa potrebbe essere una piccola soluzione. Sicuramente dobbiamo studiare anche altre tipologie come la 24-25 oppure altri aspetti che naturalmente adesso i tavoli di confronto lo evidenzieranno. Intanto aumentano i danni al manto stradale. Il primo cittadino è sul piede di guerra e annuncia battaglie legali. C'è notizia del Presidente Marsilio che ha chiesto ufficialmente all'ANAS di prendersi la gestione del tratto perché come Comune di Silvi stiamo facendo interventi quotidiani. Ieri due rotture, una in zona nord e una in zona sud di condutture sul manto stradale con ripercussioni sul traffico. Dunque veramente una situazione insostenibile, insostenibile per i cittadini e per lo stesso Comune perché non ha risorse per affrontare da solo un'emergenza del genere. E voi come Comune chiederete danni? Ma indubbiamente ci siamo già mossi e ci muoveremo ancora attraverso azioni anche legali per avere almeno il ristoro economico dei danni che abbiamo subito. La preoccupazione adesso ad oggi è anche quella economica perché sia le attività commerciali ma soprattutto anche quelle turistiche in previsione della nuova stagione che arriverà ne stanno già risentendo con la diminuzione degli incassi e soprattutto sulle prenotazioni per la stagione estiva. Nel frattempo il consigliere regionale Pietro Quaresimale ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di almeno 200 milioni di euro per la grave situazione relativa alla tratta dell'A14. Proseguiamo sempre sul messaggero, io sto bene con il mio papà ma il giudice vuole portarlo via la drammatica storia di Marco, un ragazzino di 14 anni che da giorni vive nell'angoscia. Tutto questo a Tortoreto. Poi ancora le pagine di Pescara, spazio ovviamente alla strage di Rigopiano, un po' di serenità dopo Rigopiano. Tre anni fa la catastrofe del resort parla Giampaolo Matrone, abbiamo sofferto abbastanza oggi allo stadio con mia figlia se continuassi a tormentarmi nel dolore e a piangere certamente diventerei la trentesima vittima della catastrofe. Il pasticcere salvato dopo 62 ore sotto la neve e le macerie ha perso la moglie e riportato danni permanenti. La Lazio farà entrare in campo la mia gaia, per lei sarà un'emozione fortissima. Poi ancora in taglio basso, lacrime, preghiere, ricordi, ci sarà il ministro Bonafede. Proseguiamo sempre sulle pagine di Pescara. Mibe, non solo liceo artistico, prepara per ogni università. La preside Cocco, il misticoni Belisario, ha la sua forza nei laboratori professionali, sostrato culturale solido agli studenti per farli diventare imprenditori di se stessi. Si insegna pittura, scultura, ceramica, ma ci sono anche le classi del musicale e del coreutico. E poi ancora al Teatro Massimo va in scena la musica dei film di Morricone sul palco. Questa sera c'è l'Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Lopieno. Proseguiamo sempre sulle pagine di Pescara. Truffa delle targhe internazionali. Indagano 2PM. Denuncia di una coppia che deve trasferirsi in città dal Canada, pagati oltre 4.000 euro per regolarizzare l'auto in Italia. Richieste continue di soldi da un'azienda che prometteva di occuparsi dell'intera pratica. E poi ancora andiamo sulle pagine dell'Aquila. Ecco qui colpita da una rara meningite, docente in condizioni disperate, accertata la forma meningococcica, non è stata necessaria la profilassi, ricovero mercoledì in rianimazione, dolore e sconcerto in tutta la comunità. La direzione ASL ha confermato la situazione, informato anche il sindaco Pierluigi Biondi. Andiamo avanti, sempre sulle pagine dell'Aquila. Con l'accordo, il centro antiviolenza avrà una casa rifugio. Proseguiamo e siamo ad Avezzano. Strade pericolose. La provincia chiede aiuto al Ministero. Maxi stanziamento da parte dell'ente per la Marruviana e per la Valle dell'Iri. L'obiettivo è eliminare le frane. L'elenco dei finanziamenti e delle opere già messe in atto nel comprensorio. Le pagine di Chieti. Ecco qui l'apertura. Tunnel pedonale di Felice Sicuro sarà in funzione entro febbraio. Condotta una verifica su impianti, ascensori, luci e sicurezza. Bene anche le telecamere. Le scale mobili verso il rifacimento completo. Entro luglio chiusura e poi via alla demolizione. Ieri mattina sopra il luogo con i tecnici dell'impresa incaricata dell'ultima azione. Di spalla per la cronaca nonnina falsa invalida condannata in tribunale. Poi ancora presenze cardiochirurgia blitz della Guardia di Finanza. Proseguiamo. Siamo a San Salvo con questa importante operazione antidroga. Droga in due nella rete dell'antimafia. Gli albanesi Bimi e Siglia arrestati durante un'operazione della distrettuale di Bari per un traffico di stupefacenti. Le indagini avviate dopo un omicidio commesso a Trani. Questa mattina interrogatorio di garanzia a Torre Sinello. Il punto di snodo per il territorio chietino a Vasto in Manette. Un rumeno 62enne. E poi ancora a Ortona migliorano le condizioni del consigliere comunale Claudio Piccinini. Colpito da infarto durante la partita della Seco Volley sui social messaggi di incoraggiamento. In taglio basso morte in Sevel partiti gli esami peritali. Andiamo ora sulle pagine di Teramo. Incidenti giovani a rischio. Mappa delle vie pericolose. La statale 16 e provinciale 80. Le strade con maggiore incidenza di schianti. L'uso dello smartphone alla guida e l'alcol causano i sinistri più gravi. Il presidente dell'ACI, Carmine Cellinese, dice Ragazzi usate il bluetooth oppure fermatevi quando dovete telefonare. Sensibilizzazione con gli incontri tra gli studenti. Autovelox nei punti dove si corre di più. Questi alcuni dei provvedimenti. E poi in taglio basso padre e figlio morti assiderati. La moglie sento tanta rabbia. Tutto questo a Crognaleto. E poi ancora a Giulianova operazione Cerbero Scacco ai Narcos. Due persone finiscono in carcere. Dieci denunciate nelle maglie dei militari. Anche due minori collocati in comunità terapeutiche. L'operazione è stata coordinata dai carabinieri di Giulianova. Con quelli di Pineto, Rosseto e Notaresco. Blitz con le unità cinofile. Noi ci fermiamo con la prima parte di Mattino 6. Diamo ora lo spazio alle previsioni del tempo. Poi la pubblicità. E poi rientriamo per leggere anche il centro, la città, lo sport. E per collegarci anche con Farindola. A tra poco. Di nuovo buongiorno. Seconda parte di Mattino 6. Andiamo sulle pagine del centro. Pagine a 2 e pagina a 3. Anche queste dedicate al terzo anniversario della tragedia di Rigopiano. Con una testimonianza particolarmente toccante. Ecco qui Federica, orfana di Stato e la laurea su Rigopiano. La primogenita di Piero e Barbara Di Pietro tra i 29 morti della valanga. Martedì discute la tesi sulle irresponsabilità e le leggerezze che hanno portato al disastro. E poi ancora. Mio padre in quel giorno di ferie, 10 minuti prima di morire, si è preoccupato di far pulire una strada per un bus della tua. E questa è la responsabilità etica che gli altri non hanno avuto, dice appunto Federica Di Pietro. Il sistema amministrativo è burocratizzato per difendere se stesso. È segmentato in modo che non si arrivi mai a chi ha la responsabilità reale. Si ribalta sempre su altri. E poi in basso, come abbiamo già detto, Giampaolo e Gaia in campo all'Olimpico. Quest'oggi la partita si giocherà alle 15 e poco prima saranno in campo. Giampaolo che ha riportato danni permanenti dopo quella strage e ha perso la moglie. E appunto la figlia Gaia saranno allo stadio. La valanga e l'hotel distrutto alle 16 e 49, lo squillo di tromba in quello che è il programma previsto per la giornata odierna. E poi la lettera inviata dalle mamme ai loro 29 angeli. Potevamo salvarvi tutti. Allora, abbiamo approntato il collegamento con Farindola, con Rigopiano. Io saluto il buongiorno a Stefano Recanati. Ciao Stefano, buongiorno. Insomma, raccontaci quella che sarà questa giornata del ricordo. La terza dopo quel fatidico 18 gennaio del 2017. A te. Buongiorno Andrea, buongiorno da Rigopiano. Siamo qui a due passi proprio da quello che resta dell'hotel Rigopiano. Come hai detto tu, oggi tre anni da quella tragedia, da quel giorno indimenticabile per l'Abruzzo, dove perserò la vita 29 persone. Come abbiamo sentito anche dalla lettura dei giornali, parole toccanti, quelle dette da Federica Di Pietro, che qui ha perso la mamma Barbara e il padre Piero. Ma di giustizia si continuerà a parlare sicuramente nel pomeriggio, quando al palazzetto di Penne arriverà il ministro della giustizia, il guardasigilli. Buona fede, ma oggi, in questa mattinata, comunque nella prima mattinata sarà il momento della commozione, il momento del ricordo. Alla spicciolata arriveranno i familiari delle vittime. Da qui inizierà il momento del ricordo, come abbiamo detto. Prima la deposizione di una corona, qui proprio vicino al totem, alle mie spalle che vedete, dove ci sarà anche la benedizione del parroco di Farindola, Don Luca di Domizio. E poi, da qui, dopo il momento del ricordo, come abbiamo detto, ci sarà sicuramente la parte anche politica. È atteso il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ma i protagonisti saranno i familiari, i familiari che vorranno essere tutti uniti. Il comitato di Rigopiano vorrà essere tutti uniti per ricordare i propri cari. Poi da qui, alle ore 11, si andrà al Bibio di Miri. Al Bibio di Miri ci sarà l'inizio della fiaccolata, altro momento importante. Ci saranno anche altri comitati che hanno vissuto sulla propria pelle le disgrazie dell'Italia. Verranno a dar manforte proprio al comitato Rigopiano in attesa del fiore. Da lì partirà una fiaccolata di un paio di chilometri che si concluderà presso la chiesa madre di Farindola, la chiesa San Nicola Vescovo, dove ci sarà la messa solenne ufficiata sempre dal parroco di Farindola e poi da lì, una volta finita la messa, ci sarà un momento di pausa per poi ritrovarsi tutti alle 15.30 al palazzetto di Penne, dove abbiamo detto ci sarà questo momento di stare insieme condita da vari canti, con della musica, un'orchestra che farà delle canzoni anche dedicate alla tragedia di Rigopiano. Ci sarà l'attesa del guardasigilli Bonafede che porterà un messaggio alle famiglie, vediamo di cosa parlerà e cosa vorrà portare per dare più tranquillità ai familiari. Sicuramente si parlerà anche di questa nuova legge che dovrebbe essere approvata sulla prescrizione, vedremo di che cosa poi parlerà e quali notizie porterà poi ai familiari di Rigopiano. L'attenzione oltre che sarà la giornata del ricordo, questo è evidente, ci sarà spazio chiaramente per la commozione, però chiaramente poi il pensiero va anche alle inchieste, alla scia di Veleni che queste inchieste si portano dietro e soprattutto a fine mese, il 31 di gennaio, ci sarà questa udienza nella quale il GUP di Pescara potrebbe riunire i due filoni principali, l'inchiesta madre e l'inchiesta bis sul depistaggio. Ecco, una parte dell'attenzione poi finirà inevitabilmente lì perché i parenti delle vittime, il comitato, un po' tutti aspettano che venga fatta giustizia e che vengono accertate le responsabilità. Sì, penso che questa, Andrea, sia la parola chiave, la parola chiave è quella che vanno anche alla ricerca ai familiari e quella della giustizia. Come hai ben detto tu, si tornerà in tribunale a fine mese, quel tribunale che avrà ancora da lavorare tanto perché, come abbiamo visto negli ultimi giorni, sono tante le situazioni che vanno scatenandosi, le situazioni che vanno nascendo di ora in ora, di giorno in giorno e quindi vedremo se poi sarà la volta decisiva per la riunificazione dei due filoni. Sarà ancora un punto interrogativo perché sicuramente, Andrea, non è facile adesso più di prima dare una riunificazione e dare una decisione che potrebbe essere anche affrettata in questo momento. Ok. Grazie Stefano, grazie, grazie a te, grazie a Gaetano Oterio per la parte tecnica e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Buon lavoro Stefano e buona giornata. Proseguiamo con la nostra rassegna, pagina Abruzzo sempre sul centro, argomento trasporti, strade, ferrovie, il Movimento 5 Stelle chiede all'Europa l'alta velocità sulla dorsale adriatica. La interrogazione dell'europarlamentare Chiara Gemma è oggi a Bari, l'incontro sulla riduzione dei pedaggi. Le pagine di cronaca di Pescara e provincia, paziente in isolamento, incubo suina, la donna residente del Pescarese è ricoverata nel reparto di medicina col virus H1N1, i sanitari, nessun rischio di contagio. Poi parla l'infettivologo, il dottor Giustino Parruti, non c'è da allarmarsi, il ceppo ha copertura vaccinale. Proseguiamo, sempre sul centro vessato sul posto di lavoro, ti renderò la vita un inferno. Direttrice nei guai per estorsione, la responsabile di un supermercato, rinviata a giudizio, costrinse alle dimissioni un dipendente. La donna avrebbe preteso il controllo della sua vita personale fino a farlo accompagnare in bagno. E poi ancora, in taglio medio, Anna Stuprata è poi lasciata morire la regione parte civile al processo. Il comune cambia l'orario di lavoro, il comune di Pescara, dipendenti in rivolta, l'ente vuole posticipare l'entrata e l'uscita di mezz'ora. I sindacati contrari puntano a una modifica di soli 15 minuti. Poi ancora il ricordo di Carlo Di Properzio, chiesa gremita per l'addio a Carlo Di Properzio, aveva 80 anni, il commosso abbraccio della città alla famiglia di storici imprenditori Lomeria. È stato un uomo coraggioso che ha fatto le cose nella maniera corretta. Poi sempre a Pescara, in via di sotto, un altro investimento, ferita una donna di 54 anni, il comune annuncia 35 nuovi attraversamenti. E siamo sempre a Pescara con la cronaca, botte alla fidanzatina, 17enne arrestato, oltre a schiaffi e pugni, minacce di morte e pedinamenti. Stesso trattamento alla madre, finita in ospedale con la ragazza. I carabinieri hanno ricostruito i fatti che si sono verificati tra settembre e dicembre scorso. Il minorenne è accusato di lesioni, maltrattamenti e atti persecutori. E poi ancora, sempre a Pescara, carcere, sale la tensione e il sindacato chiede aiuto. C'è chi si arrampica sui tetti, chi fa atti di autolesionismo, chi appicca il fuoco. Petrongolo della USP, vanno riaperti gli ospedali psichiatrici, serve più personale. Avanti ancora, siamo a Montesilvano con la nevicata del 2012. Lavori non pagati nel 2012, il comune è condannato. Impresa vince il ricorso al TAR, lente a 40 giorni per versare 46 mila euro. Altre ditte sono in attesa dei soldi. Il debito ammonta a mezzo milione di euro. Le parole del sindaco De Martinis, il ritardo dovuto alla perplessità sui costi, ma le aziende avranno il giusto compenso. E poi ancora, sempre a Montesilvano, forze dell'ordine in campo per il trofeo San Sebastiano. Parte il tradizionale quadrangolare di calcio 5 al Palaroma, raccolta di fondi e di derrate alimentari da destinare alle associazioni Onlus. E poi ancora a Francavilla, Contrada-Pretaro, una nuova rotonda al posto del semaforo. Ecco il piano del comune per rendere più sicura la nazionale. L'intervento sollecitato dai cittadini dopo numerosi incidenti. Una parte del parcheggio del nuovo supermercato Eurospin resterà pubblica anche per l'estate. E poi ancora in Val Pescara, sorgenti del Pescara Alvia, le visite guidate per vedere gli uccelli a popoli. Il 26 gennaio, la prima giornata di birdwatching, la direttrice di Felice. Ci sono specie uniche nella riserva. Siamo ora sulle pagine di Chieti, siamo alla politica, alle prossime elezioni comunali. Febbo insiste, primarie con Formichetti. Tutto questo nel vertice di Forza Italia. Il funzionario della Prefettura accetta la proposta dei forzisti. Ieri la riunione di partito con l'assenza della De Matteo. Poi ancora andiamo su un'altra pagina. Siamo sempre a Chieti. Cardiochirurgia, inchiesta sulle spese. A Chieti si muove la finanza. Nel mirino delle Fiamme Gialle, gli appalti per la fornitura di beni e servizi sanitari. Primi indagati acquisiti, documenti. Le pagine di Teramo. Siamo alla vicenda a viabilità. Ecco l'inferno della Statale 16. La rabbia degli abitanti nella città, ostaggio dei tir. Cittadini tra smog e traffico. Molti negozi hanno dimezzato il volume d'affari. Il presidente del comitato di quartiere della zona sud. Asfalto e tubature rotte. Se pioverà saranno crateri. I danni li pagheremo noi. E poi ancora un residente sulla Adriatica Nord. Non si dorme più per i rumori dei rimorchi sulle buche della strada. E poi gli operatori turistici. Bisogna fare presto. I turisti devono potersi muovere o non verranno. Avanti ancora. Ci sono ulteriori conseguenze. Paradossalmente alcune positive. L'exploit del motel Boston. Ora è meta di centinaia di camion. Vengono qui per le soste obbligatorie. La clientela è aumentata di più del 30%. E poi ancora gli autotrasportatori dicono fate passare sull'A14 i mezzi con merci a rischio. Proseguiamo. Siamo sulle pagine sempre della provincia di Teramo. Siamo a Pineto. Cocaina e marijuana. Banda sgominata. Bloccati in tre. L'accusa ai tossicodipendenti. Offrivano le loro case per consumare. Ma erano botte a chi non pagava. Tutto questo tra Pineto e Roseto. E ora le pagine dell'Aquila. Ore di ansia. Veglia di preghiera. A Pianola. Caso di meningite in ospedale. Gravissima insegnante di 46 anni. La ASL esclude ipotesi di contagio. Non serve profilassi. E non esiste un pericolo per la popolazione. La preside liberatore è per noi un fulmine a ciel sereno. Massima vicinanza alla sua famiglia. E poi ancora inchiesta a Sulmona. Coinvolte altre quattro persone. Comune. Sospeso l'economo Di Pietro. Il funzionario era stato arrestato dalla finanza. Mentre scaricavano nel suo garage un ingente quantitativo di droga. Il provvedimento disciplinare a tempo indeterminato. E con il dimezzamento dello stipendio. è stato disposto dalla segretaria generale Nunzia Buccili. E poi ancora l'Aquila turismo trainato dal decennale. Presentati i risultati del monitoraggio eseguito tra i visitatori del 2019. Tra le criticità. I trasporti pubblici. Lasciamo il centro. Ci torneremo per le pagine di sport. Andiamo a vedere ora. a sfogliare le pagine della città. Pagina 3. Dedicata anche questa. Alla ricorrenza. La triste ricorrenza di Rigopiano. Tre anni dalla tragedia che sconvolse l'Abruzzo. Oggi le celebrazioni per ricordare le 29 vittime travolte dalla Valanga. Il 18 gennaio del 2017. Anche il ministro Buonafede prenderà parte alle celebrazioni che si terranno nei pressi dell'hotel Rigopiano. Avanti ancora. Siamo a Teramo con la politica teramana. Cavallari risponde di Timoteo Graffia, l'ex candidato sindaco di Bella Teramo pronto al dialogo. La consigliera di Podemos critica l'apertura. Poi le parole di Carginari. Il consigliere di Più Europa resta nel gruppo e plaude all'iniziativa del sindaco Dalberto. Quello che lei intende porre in essere non appartiene alla tanto sbandierata nuova politica ma, ripete, un cliché già visto in un recente passato, dice Di Timoteo. Poi ancora, pagina 6. Ruzzo. Oggi l'assemblea dei sindaci. Oramai certa la riconferma di Cognitti e grotta nel consiglio d'amministrazione. Poi circa il terzo componente. Salgano sempre di più le quotazioni del Vibratiano Fagotti vicino al sottosegretario Umberto D'Annuntis. Vediamo il servizio del Tg6. In provincia di Teramo non ci sono dubbi. È nato un nuovo partito politico. Il partito dell'acqua. A poche ore dall'assemblea dei sindaci che eleggerà o meglio riconfermerà i vertici dimissionari della Luzzoreti si è giocata una partita di alleanze trasversali locali inedita sul piano nazionale. I nuovi renziani, capitanati dall'ex onorevole del PD, Tommaso Ginobble, si sono di fatto alleati con quel centrodestra che fa riferimento all'ex assessore regionale di Forza Italia, Paolo Gatti. Insieme, controllerebbero la quasi totalità dei comuni azionisti dell'azienda acquedottistica Teramana. Una forza politica dirompente che aveva già eletto nel 2018 l'attuale CDA della Ruzzoreti presieduto dall'avvocato Alessia Cognitti. Intanto, in queste ore, i rumors parlano di un'asse e lega partito democratico, entrambi in forte minoranza, tesa a contrastare lo strapotere di Ginobble e Gatti sull'assemblea dei sindaci. Ma perché mai il CDA della Ruzzo si è dimesso dopo un anno? Il primo componente a rassegnare le proprie dimissioni è stato Antonio Forlini per motivi personali. Il successivo addio del presidente Cognitti e dell'altro componente, Alfredo Grotta, è stato giustificato con la volontà di rimettersi al giudizio dei sindaci. È facile supporre che la causa di queste dimissioni sia stata proprio il ricorso al Tribunale delle imprese presentato dal sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, l'unico allora ad esprimersi ed agire legalmente contro la nomina di questo CDA. Il motivo su cui si basa il ricorso fa riferimento alla legge Madia, secondo la quale in un ente come la Ruzzoreti dovrebbe essere nominato un amministratore unico e non un CDA a tre. Queste dimissioni di fatto azzerano il ricorso in itinere mentre si profila una riconferma della stessa governance. Un escamotage, secondo D'Alberto, messo in atto per allungare i tempi di permanenza del medesimo CDA e che rappresenta un metodo offensivo per istituzioni e cittadini bersagliati da aumenti ingiustificati delle bollette. Contro la posizione di D'Alberto e a favore di una riconferma del CDA uscente si sono espressi tanti sindaci terramani. Il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, il sindaco di Valle Castellana, Camillo D'Angelo, Federico Agostinelli, sindaco di Campli, Dantino Vallese, sindaco di Corropoli, Gabriele Minosse, sindaco di Cortino, ex segretario provinciale del PD e quello di Castellalto, Vincenzo Di Marco. A sostegno del sindaco D'Alberto si schierano la presidente regionale del PD, Manola Di Pasquale, Stefano Alessiani, coordinatore provinciale di Articolo 1 e il sindaco di Bellante, Giovanni Melchiorre. Pagina 7 della città, D'Alterio DG dell'Istituto Zoprofilattico, è arrivato ieri il decreto da parte del presidente della regione Marsiglio, che ufficializza la sua nomina. D'Alterio ora tocca la nomina del suo successore alla direzione sanitaria dell'Izeta S Caporale. Pagina 8, chiede 100 mila euro per la caduta in strada, a trascinare in tribunale il comune un'azienda, pardon, un'anziana rimasta gravemente ferita per una buca in via Vittorio Veneto. Ha costretto la caduta, ha costretto l'anziana ad accertamenti clinici, ricoveri, lunghe cure e a sottoporsi a diverse terapie. Pagina 9, Popolare di Bari, nuova inchiesta sui crediti inesigibili. L'istituto avrebbe concesso crediti a società a rischio, certificandoli comunque nei bilanci come sicuri. E poi ancora, siamo arrivati in tempo per non far perdere i soldi ai risparmiatori di Popolare di Bari, dice il sottosegretario dell'economia, Alessio Villarosa. Andiamo ora su pagina 15, con le notizie che arrivano dalla provincia di Teramo. sgominata la banda dello spaccio sulla costa. Due minorenni in manette, 11 denunce nell'operazione dei carabinieri della compagnia di Giulianova. Operazione Cerbero che ha permesso di accertare un giro di spaccio di cocaina e marijuana da 21 mila euro in pochi mesi. Il B&B, i tossicodipendenti, potevano trovare anche ospitalità a casa dei fornitori come in un B&B, ma al posto della colazione si offrivano appunto cocaina e marijuana. andiamo su pagina 16, in Val Vibrata, Tortoreto, pesce a chilometro zero negli asili, pronto a partire il progetto europeo di educazione alimentare nelle scuole dell'infanzia. Il comune di Tortoreto ha ottenuto un finanziamento di 20 mila euro dalla regione. Poi ancora, a Giulianova, Sadam, verso il cambio della convenzione, il sindaco Ivan Costantini, una struttura part-time non ci interessa. La città ne ha bisogno, di un teatro, ma non vogliamo una struttura privata da utilizzare solo qualche giorno. Siamo a Roseto con il nuovo piano spiagge presentato ai balneatori. L'amministrazione comunale punta su aree libere, disciplina dei manufatti e inclusione. Da affrontare altri temi sono quelli sulla presenza degli animali e sul divieto di fumo lungo gli arenili. Siamo a Silvi, caos in A14, cittadini e istituzioni alle limite dell'esasperazione, gruppo di residenti prova a bloccare la statale. A Silvi, il sindaco annuncia l'azione legale per i danni. Poi la proposta, Marsilio chiede all'ANAS di riprendere in gestione il tratto urbano della statale fino a quando l'emergenza non sarà finita. e intanto c'è un progetto che va avanti che sta portando avanti l'amministrazione comunale di Silvi. Ecco la variante per liberare la statale. L'amministrazione di Silvi approva lo studio di fattibilità per il progetto che ha convinto ANAS e Regione. Minori costi rispetto al progetto previsto dal PRG la nuova variante costerà 10 volte di meno e sarà meno impattante sull'ambiente. E qui troviamo alcuni dei render che configurano appunto quello che può essere il progetto quella che può essere la variante per liberare per decongestionare la statale 16. Ora apriamo la parentesi legata allo sport sul finire di questa edizione di mattino 6 siamo sulla città un dubbio in difesa in tre per due maglie ufficiale Cianci a Carpi ecco il transfer di Fiore ma col rientro di Piacentini dietro c'è un ballottaggio tutto questo ovviamente sul fronte Teramo che affronterà domani alle 17.30 al Bonolis Lavellino Lavellino che ha avuto il mercato sbloccato dopo qualche problema di natura tra virgolette burocratica diciamo così i biancoverdi hanno potuto tesserare il difensore Bertolo che aveva già disputato l'amichevole del giovedì Capuano verso il modulo 352 con il Teramano di Paolo Antonio playmaker degli Irpini andiamo a vedere le testate nazionali Gazzetta Corriere e Tutto Sport ecco qui le prime pagine siamo sulla Gazzetta dello Sport Mancini e la Gazzetta da Sacchi Casa Italia le parole di Roberto Mancini la mia nazionale all'europeo avrà due centravanti titolari Belotti e Immobile Aspetto Zagnolo e Chiesa puntini puntini e poi l'ex CT a Regosacchi bravo Roberto la tua è una squadra mai vista è meglio dei club ma ora perdi le amichevoli e poi sotto la testata due notizie un lutto che ha colpito il calcio italiano con l'addio a Pietro Anastasi campione d'Europa del 68 si è arreso al Slam e poi sul fronte mercato è saltata la trattativa tra Roma e Inter si finisce addirittura in tribunale salta Spinazzola Politano la Roma pensa alla causa adesso l'Inter va su Moses nell'editoriale di Andrea Monti il tutto viene definito come farsa mercato il corriere dello Sport apre così Juve sotto attacco la Lazio solo sul campo alle 15 con la Samp l'Inter anche sul mercato riparte la caccia e poi ancora di spalla Fonseca quando la duttilità è una virtù scendiamo in taglio medio Lazio Sampdoria Inzaghi insegue l'undicesima vittoria di fila e poi le manovre dell'Inter Young a Milano visite e contratto fino a giugno e poi ancora il Napoli prova a riprendersi stasera la Fiorentina alle 20.45 e poi anche il Corriere dello Sport dà l'addio a Pietruzzo il calcio piange Anastasi la prima pagina di Tutto Sport mercato in primo piano Pogba Juve operazione Panitas quadrato di Bala Higuain sono i tre amiconi Panitas nel gergo colombiano di Pogba che tessano la tela per il grande ritorno e poi di spalla questo riquadro con l'addio ad Anastasi a Pietro Anastasi e poi in taglio medio alcuni richiami Millico un altro caso nel Toro che oggi anticipa con il Sassuolo Inter scatenata Young vinceremo Ericsson in volo e poi la svolta rossonera il Milan vuole piantare l'olmo torniamo sulle testate locali andiamo a vedere le pagine di sport del messaggero Abruzzo Pescara tutto su Melchiorri Pettinari al Crotone Patron Sebastiani incontra gli agenti del bomber del Perugia i grifoni chiedono ancora 650 mila euro il Lecce si arrende e rinuncia a Macin salta Asensio che va al Cosenza Matteo Brunori rifiuta l'entella Ingelson verso il Livorno e poi le parole dell'attaccante Riccardo Maniero che non teme la concorrenza mi guadagno il posto Volei di A2 la Sieco a Cantù per restare seconda Ortona questa sera vuole smaltire la delusione di Coppa differenza abissale ma Coach Lanci dice non sottovalutiamoli e poi per il calcio di Serie C Teramo dubbio Birligea o Minelli per l'attacco Magnaghi è intoccabile contro Lavellino Bombaggi è più trequartista ma duttile dopo l'uscita di Cianci potrebbe fare le valigie anche Martignago verso club di Serie C suppongo e poi Piacentini titolare in difesa al posto di Soprano Curiale è rimasto a Catania nonostante l'offerta superiore e poi per la Serie D oggi per il Chieti gara salvezza col Porto Sant'Elpidio in paglio punti che valgono doppio alle 14.30 a Ortona e poi l'Avezzano prende Onaivu Capistrello cambia patron per il Futsal Acqua e Sapone goleada e decima vittoria consecutiva vediamo ora le pagine dello sport del centro ecco qui anche in questo caso si parla di calcio mercato di Serie B Melchiorri vuole il Pescara il Delfino tratta col Perugia Blitz in città dei procuratori del bomber accordo trovato con il club Biancazzurro ma gli Umbri chiedono 500.000 euro Castrati piace al Trapani sondato Nicolás poi in basso ecco la salernitana Zauri si affida a Magnero domani Pescara in campo contro i Granata di Ventura la vittoria in casa manca da due mesi e mezzo peraltro ieri si è giocato l'anticipo dunque la prima gara del 2020 in Serie B finita in parità 2-2 tra il Frosinone e la vice capolista Pordenone e poi per il calcio di Serie C Avellino nel Mirino confermato il tandem Magnaghi Bombaggi il Teramo sfida gli Irpini Tedino si affida ai bomber il doppio ex ammazzadorso il Diavolo è favorito poi ancora per la Serie D il Chieti si affida a Traini preso Polletta idea Feola Serie D oggi Tietini a Ortona col Porto Sant'Elpidio Di Meo conferma il 4-3-1-2 rilancia il bomber dubbio Camarà tesserato il terzino può tornare il portiere noi ci fermiamo qui con l'edizione odierna di mattino 6 che tornerà lunedì alle ore 8 vi ricordo gli appuntamenti informativi con la nostra emittente le edizioni principali del TG6 alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 grande spazio grande attenzione ovviamente alla triste ricorrenza di Rigopiano a questa giornata di commemorazione con collegamenti anche in diretta da Farindola soprattutto per gli eventi della mattinata come detto invece mattino 6 torna lunedì alle ore 8 grazie in regia a Maurizio D'Agui e grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata grazie a tutti